L'Ena, o meglio L'Ena Cica, ride sempre, eppure viene da una terra devastata, quella Moldavia tra le province più disgraziate del Moloch comunista, tra le macerie dell'ex Unione Sovietica. L'Ena Cica vive la sua esperienza nel libro di Marco Iacobucci. L'Ena Cica ride sempre è un romanzo generazionale, nato con l'intenzione di dare più dimensioni a queste persone che a volte definiamo semplicemente immigrati. Il motivo di questa monodimensionalità è che non conosciamo la loro storia a volte. Io sono entrato in contatto con delle persone in maniera molto intensa, di persone che venivano dalla Moldavia, per la precisione, e ho raccolto delle storie incredibili, alle quali io stesso non credevo e ho dovuto spendere un bel po' di tempo per verificare che fossero vere. E a un certo punto è venuto fuori un significato universale da queste storie, che vale non soltanto per loro, ma anche per noi. Quindi si è giunta a questa seconda cosa. Il tema principale è quello del randaggismo infantile, che lì è veramente molto diffuso. Pensiamo a tutte le badanti che vengono in Italia. La maggior parte delle volte lasciano dei figli, dei bambini lì, che in qualche modo devono cavarsela da soli. E questo che cosa comporta? Da un lato il fatto che sono dei ragazzini, quindi fanno cose, se vogliamo, anche divertenti. Infatti il libro tende a far ridere più che a riflettere, ma c'è questa doppia emozionalità, per cui mentre noi sorridiamo del modo in cui se la cavano, dall'altro lato ci arriva nella pancia la sensazione che sta succedendo qualcosa che vorremmo non ci succedesse.